Immagina il dispositivo più veloce, più avanzato, più tecnologicamente complesso del mondo. E se non fosse solo un dispositivo? Se fosse il tuo nuovo migliore amico? Ciao! Ti presentiamo il BeBot. Ti connetterà al mondo come mai prima. Esprimi te stesso. Immagina senza limiti. Crea. Gioca. Ed entra in un nuovo mondo di amicizia. Il BeBot. Troviamo nuovi amici. Tanti auguri in ritardo, Barney. Oh, papà! Me lo hai preso davvero! Senti! Ah! Ciao! Inserire nome registrato. Sono il tuo... 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 Il mio BeBot. Be-bot. Il BeBot ha qualcosa che non va. Non dovrebbe fare così. Non dovrei fare così. Servo per nuovi amici? E Barney ha bisogno di amici? Beh, direi... Oh, fidati di me! Non uscirò mai vivo dalla scuola! Dove stai andando? Devi sempre rimanere entro due metri da me! Due. Io sono l'amico pronto all'uso di inserire nome registrato. Io sono l'amico pronto all'imico. Ero! Sì! 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 Grazie.